Il 7 di aprile è stato convocato il Consiglio Comunale di Scordia che dovrà discutere fra le altre cose anche una delibera che per certi versi è una delibera storica perché a Scordia almeno da quando io ricordi non si è mai visto che i cittadini debbano pagare una tassa che in questo caso è la tassa sui rifiuti in anticipo. Saranno presentate ovviamente durante questo Consiglio i vari emendamenti, sarà presentato però la delibera, il corpo della delibera che sarà presentata dall'amministrazione comunale parla di una rateizzazione su appunto tre periodi classici mi sembra di aver capito giugno, agosto e dicembre in cui i cittadini dovranno pagare la spazzatura di quest'anno, quindi insomma siamo in netto anticipo. Ne parliamo con il Consigliere Comunale Nicolo Ferro che fa parte della Commissione Bilancio, della Commissione appunto che si occupa di questi aspetti finanziari. Ecco, intanto cerchiamo di spiegare che cosa sta per accadere in questo Consiglio. Sì, allora, innanzitutto premetto che già ieri in Commissione Bilancio ne abbiamo parlato e questa delibera non ha avuto il parere favorevole della Commissione Bilancio e questo mi fa sperare bene per il Consiglio Comunale. Cerchiamo di essere chiari, siete cinque i componenti della Commissione, ovviamente lei fa parte dell'opposizione. Anche i componenti di maggioranza non hanno votato a favore? Praticamente era assente uno dei componenti della Commissione, eravamo solo in quattro. Io, la collega Adelfo Aristodemo, Salvatore Barresi delegato al posto di Giuseppe D'Amico e il Presidente della Commissione Renda. Su quattro componenti, quindi eravamo due dell'opposizione e due della maggioranza, un solo voto è stato quello favorevole, quello del Presidente Renda, mentre Barresi si è astenuto e io e il collega Aristodemo ci siamo opposti perché non riteniamo giusto che avvenga questo anticipo, premettendo che abbiamo finito da pagare la spazzatura un mesetto fa. I pilligi entro fine febbraio hanno pagato la spazzatura dell'anno scorso. È passato da poco marzo, già si parla di Tari 2016, che andremo a pagare con un largo anticipo e in maniera storica, se questo, sempre utilizziamo il giorno 7, quindi dopo domani sera in Consiglio Comunale, la maggioranza farà passare questa delibera, la pagheremo in anticipo a giugno, agosto e dicembre. Queste sono le tre scadenze. Ma adesso le faccio una domanda da cittadino, nonché da capofamiglia che deve sbarcare il lunario. Allora, 28 febbraio l'ultima tassa sulla spazzatura, poi ci mettiamo l'acqua, ci mettiamo l'assicurazione, ci mettiamo la luce, ci mettiamo chi ce l'ha, il telefono, tutti questi balzelli che ogni famiglia deve, di questi il canone Rai, eccetera. E in più a scordia ci dovremmo permettere, da quello che ha capito il lusso, di pagare in anticipo. Io capisco per carità le ragioni di questa amministrazione comunale, che ha bisogno di liquidità per pagare anche gli operai, immagino, dell'Agesp in tempo utile. Però, ecco, come si fa, consigliere Ferro, a dire ai cittadini in questo momento che si sta vivendo una gravissima crisi, che bisogna pagare in anticipo la tassa sulla spazzatura? Infatti, io ho manifestato e ho rappresentato, anch'io ho una famiglia, sono padre di due bimbe, e come te, come tutti, abbiamo i problemi per arrivare a fine mese. E ho sottolineato che noi siamo la parte fortunata di scordia, che fortunatamente ha un lavoro e si può permettere di tirare avanti, ma molti non riescono ad arrivare nemmeno a fine mese. Ho rappresentato questo problema al sindaco, ho detto che era... Ne ha parlato in commissione? In commissione l'ho esposto questo problema e ho fatto anche una mia proposta in modo costruttivo, perché se c'è un problema si deve risolvere. Qual è la sua proposta? La proposta era quella di fare almeno sei mensilità, magari farle coincidere in quei mesi in cui non arriva l'Enel, così la... Bimestrale? Una bolletta bimestrale, ogni due mesi pagare una piccola quantità di tari, che verrebbe più facile, perché come ormai tutti quanti l'assicurazione, stanno realizzando tutto. Quindi sarebbe conveniente per le famiglie andare a pagare una minirata ogni due mesi di 40-50 euro, si spera anche meno, piuttosto che andarne a pagare tre rate da 100 euro cada uno o anche di più. Mi sembra che il discorso è molto chiaro. Allora, l'amministrazione chiede il pagamento anticipato entro l'anno della tassa del 2016. Dall'altro canto, le immagini le abbiamo anche viste sul suo computer, abbiamo anche una situazione della raccolta dei rifiuti che, ahimè, lascia trasparire sicuramente qualche più di qualche problema. Mi diceva l'assessore Corbino che qualche giorno fa è stata ripulita per l'ennesima volta la zona industriale, l'area antistante, il centro di raccolta comunale. Ecco, oltre il danno la beffa, perché oltre a pagare in anticipo questi servizi, poi dobbiamo anche assistere a clamorosi disservizi che questa città sicuramente non merita e non meritano i cittadini. Esattamente, esattamente. Stamattina e stamattina, dopo pranzo veramente, mi sono fatto un giro anche per andare a guardare la realtà quotidiana che vive Scordia, perché, come dicevi tu, l'assessore ti avrà detto che qualche giorno fa era stata bonificata la zona, diciamo. Ma ha detto nel senso che era stata bonificata sul set. E ci credo, però già oggi, nelle fotografie che ho qua sul computer, praticamente... Possiamo scorrere anche perché abbiamo la telecamera di servizio? Praticamente, davanti al CCR già si può vedere come parecchi sono i rifiuti, spazzatura, pneumatici buttati a terra. La colpa è sicuramente anche di una parte piccola, fortunatamente, una parte piccola di cittadini Scordia. Ma fortunatamente, ma fanno un danno enorme. Dico, fortunatamente sono pochi, perché se fossero di più... Potremmo cambiare paese. Dovremmo emigrare tutti quanti in massa. Dico, la parte piccola di cittadini di Scordia che è incivile e butta spazzatura dappertutto. In parte, anche dovuto questo, è di servizi, a una mancata campagna di promozione consistente dove si spiega ai cittadini come farà differenziata. Penso alle persone più anziane, penso alle persone che magari hanno qualche problema nel... L'anticipo, consigliere, giovedì ci sarà un incontro, mi è stato annunciato, organizzato dalla CGL, che chiamerà a raccolta tutti gli anziani per sensibilizzarli sulla raccolta differenziata. Mi sembra di aver capito che è stato chiesto ai lavoratori, ai dipendenti dell'AGESP, la collaborazione. In termini molto chiari, il venerdì, giorno in cui il Comune di Scordia paga una cifra enorme per conferire nella discarica, succede che praticamente il Comune adesso, almeno mi è arrivata questa voce, non raccoglierà più i rifiuti che non sono, diciamolo pure, indifferenziabili. Usiamo questo termine, forse qualcuno del Movimento 5 Stelle mi riprenderà con questa mia dizione, che forse non è il massimo per quanto riguarda il vocabolario della spazzatura. Però, diciamolo per coloro che ci ascoltano, il venerdì, se passando gli operatori troveranno un sacco dove c'è la plastica, dove c'è la carta, dove c'è qualsiasi altra cosa, non raccoglieranno i rifiuti. Questa è la collaborazione, ma lei poco fa mi diceva che questo è previsto. Questo credo è la normalità, nel giorno di raccolta della plastica, anziché mettere la plastica, oppure si mette il vetro, oppure all'interno del sacco con la plastica si mettono sia bottiglie di plastica, in quel caso credo che già gli operatori ecologici di Scordia, che lavorano a Scordia, non ritiravano i sacchi. Non so questa collaborazione maggiore a cosa serve. Forse una sensibilizzazione maggiore. Può darsi, fatto sta che avverrà questa delibera con l'anticipazione. Ci è stato spiegato in commissione dal sindaco che è stata portata perché vi è una mancanza di liquidità dovuta al comune e quindi per evitare disservizi causati anche dai scioperi per il mancato pagamento dei stipendi il comune dovrebbe anticipare, i cittadini dovrebbero anticipare i soldi per il servizio e per evitare ulteriori disservizi. Io faccio una domanda da ignorante, ma allora la ditta AGESP a che cosa ci sta a fare? Lo stipendio viene pagato dalla ditta AGESP, cioè il ritardo, cosiddetto ritardo che può essere anche in certi casi dannoso per il lavoratore ma può essere anche fisiologico una settimana, 15 giorni, potrebbe essere benissimo anticipato da una ditta come l'AGESP che ha anche un rischio d'impresa. Quello sì, qualsiasi ditta ovviamente per contratto è tenuta a pagare gli stipendi ai propri lavoratori ovviamente dopo deve, a fine servizio, deve farsi pagare per quello che è il servizio effettuato ma dobbiamo precisare anche, e più volte ho richiamato il sindaco all'attenzione perché il contratto non viene puntualmente rispettato perché la spazzatura che vediamo, vediamo fotografie dove l'erba cresce rigogliosa nelle strade Però, consigliere Ferro, scusi consigliere Ferro, lei sta perdendo i capelli come me, sta passando il tempo siamo all'ennesima proroga anche per l'AGESP, stiamo aspettando questo benedetto contratto europeo questo bando che è stato già fatto, questa gara che è stata espletata Mi sembra che qui a Scordia, ma in tutta la Sicilia, il problema dei rifiuti sia veramente un cancro da cui non se ne può più uscire Io non ho mai fatto un'intervista così populistica, lo devo ammettere però credo che il cittadino si sia stancato davvero Ecco, oltre alla sua posizione di rifare Scordia per quanto riguarda l'aspetto della spazzatura lo abbiamo capito e lo abbiamo anche sempre percepito dai suoi comunicati Che cosa chiederà durante il Consiglio Comunale in merito alla richiesta del Comune di pagare in anticipo sulla tassa dei rifiuti? In merito alla richiesta, diciamo, sull'anticipo dei rifiuti io credo che col Sindaco, anche ieri in Commissione abbiamo parlato il quale alla mia proposta di effettuare sei rate bimestrali non ha dato alcuna menzione, anzi, meglio non esprimersi su quello che mi è stato... Non è favorevole? Ma si è messo a ridere, si è messo a ridere forse perché lui essendo ancora, abitando ancora con i genitori questo problema non lo vive quotidianamente come lo può vivere chi ha una famiglia Grazie, grazie a voi